buongiorno introduciamo ora un concetto nuovo in meccanica che comunque è estremamente importante per le applicazioni e cioè il concetto di vincolo che un sistema meccanico sia vincolato è una delle cose più normali che si possono immaginare quando un punto deve appartenere a una certa superficie deve essere appoggiato su una superficie oppure non può oltrepassare un muro oppure deve ruotare attorno a dei cardini ci sono veramente tantissimi esempi di sistemi meccanici che non sono liberi di muoversi nello spazio i pianeti sì ma sono una fortunata eccezione quindi noi siamo in un certo senso obbligati a trattare questo tipo di restrizione al moto perché si tratta proprio di una restrizione al movimento poi lo vedremo come vedremo come trattarla allora vale la pena spendere due parole però da un punto di vista atomico se vogliamo i vincoli diciamo esistono sì e no nel senso che chiaramente gli atomi non possono venire a contatto perché avendo gli elettroni nello strato più esterno poi quando si avvicinano troppo ad altri atomi questi non possono avvicinarsi perché la forza elettrica dipende dall'inverso del quadrato della distanza e quindi tende all'infinito quindi non è possibile avere due elettroni sovrapposti questo fa sì diciamo che però sia impossibile esprimere il concetto di questo concetto di vincolo in maniera macroscopica e quindi bisogna fare delle modellizzazioni cioè dobbiamo inventarci qualche cosa che sia in qualche modo reminiscente di quello che il vincolo è da un punto di vista molecolare e si vede diciamo c'è nel modello in qualche modo e inserirlo in modo opportuno nella nel nostro nel nostro sistema meccanico la scelta è chiara cioè almeno per sistemi macroscopici abbastanza semplici si si dà in di solito un vincolo di tipo geometrico sulla posizione delle dei punti del sistema quindi per esempio se io non posso oltrepassare un muro la mia scissa non può superare un certo valore corrispondente alla posizione del muro se per esempio io ho una linea sulla quale devo stare che però c'è da qualche parte una barriera che non posso oltrepassare la cosa più semplice è se io uso la modellizzazione del punto materiale cioè se io sono un punto materiale qui ci sarà un'origine qui ci sarà un certo valore diciamo x massimo della mia della mia scissa e quindi la mia x dovrà essere minore uguale di x massimo ecco come questa ci sono tantissime modellizzazioni di tipo geometrico però se ci si pensa un po queste non sono le uniche ci sono infatti delle restrizioni al moto che sono più sottili e che coinvolgono la velocità chiaramente se io ho un vincolo di posizione cioè come si dice cioè se la mia posizione è ristretta in qualche modo uno si aspetta che questo influisca anche sulla velocità è meno evidente invece che se io ho un vincolo sulla velocità questo provenga sempre a prima vista sì però se uno ci pensa bene non è detto che un vincolo provenga sempre da un vincolo di posizione questo è un fatto importante che mostra che i vincoli di velocità sono più generali dei vincoli di posizione e cosa bella in realtà il concetto di velocità soggetta a un vincolo è molto molto utile nella formulazione moderna della meccanica e quindi l'approccio che noi seguiremo sarà quello di dare una restrizione non necessariamente sulla posizione naturalmente potremmo darla ma piuttosto sulle velocità chiaramente quando avremo una restrizione sulla posizione da lì dedurremo una restrizione sulla velocità e queste saranno di fatto più o meno sono equivalenti allora andiamo andiamo a vedere un pochino più in dettaglio che cosa vogliamo dire cioè cerchiamo di formalizzare un pelo di più allora abbiamo detto facciamo qualche esempio tanto per capire che cosa vogliamo volevamo dire allora prendiamo giusto questo esempio qui fin tanto che il punto si trova sulla superficie supponiamo per esempio che sia appoggiato alla superficie allora quindi diciamo diciamo di fatto se questa è una specie di pavimento il punto non può neanche scendere qui sotto ecco come quando si sta in una stanza allora in questa posizione qui chiaramente la velocità del punto può essere o lungo il pavimento quindi uno può strisciare ma uno può anche saltare in varie direzioni ecco questo fin tanto che x è qua quando x arriva per esempio in questa posizione qui o si trova in questa posizione qui indipendentemente dal fatto che ci arrivi o no poi col moto uno deve pensare a priori in questo caso allora le cose diciamo cambiano no perché a questo punto la velocità di x potrebbe intanto va bene tornare indietro potrebbe però non può andare avanti perché non può oltre passare il muro no quindi diciamo questa qua che faccio così in bianco questa qua è vietata potrei strisciare sul muro certo quindi potrei arrampicarmi sul muro e naturalmente mi potrei potrei allontanarmi anche in questa direzione quindi da questo esempio vediamo che il punto a seconda di dove si trova ha varie velocità possibili chiaramente se poi il punto decidesse di saltare fare un salto all'indietro quando si troverà in queste posizioni qua potrebbe non avere assolutamente nessun vincolo e quindi le sue velocità possibili sono tutte le velocità e da questo punto di vista la cosa è abbastanza semplice se il sistema si complica un po però bisogna stare attenti perché bisogna sempre riferirsi al come si dice ai punti allora supponiamo di avere un sistema meccanico molto molto facile costituito da due punti un punto q e un punto p ecco i quali sono collegati l'uno all'altro come dicono i meccanici da un'asta che un'asta di massa nulla quelle cose terribili che dicono gli ingegneri in realtà questo è un vincolo in cui si impone che la distanza fra p e q sia costante è q uguale a l questo è quello che si dice un'asta priva di massa in realtà invece il punto q è come si vede da questo disegnetto qua libero di muoversi ma solo sulla retta orizzontale quindi le sue velocità sono soltanto orizzontali ecco allora chiaramente quello che farà il punto p dipenderà anche da quello che farà il punto q però si capisce che q ha un vincolo in più perché oltre a stare a distanza l da p non può andare dove vuole e p sì è un pochino più libero però anche lui non può andare dove vuole per esempio è una velocità di questo tipo qua una velocità che dipende dalla posizione che da una posizione come questa per esempio quando p si trova esattamente sotto q chiaramente non potrà allontanarsi ulteriormente perché altrimenti si allungherebbe da distanza non può neanche avvicinarsi perché altrimenti cambierebbe la distanza fra p e q quindi queste due sono vietate e quando questa è la posizione invece le velocità possibili sono queste quindi la cosa è complicata perché dipende anche in un certo senso da qual è il moto però è chiaro che una volta che uno congela la situazione riesce con la geometria a capire quali sono i vincoli sulla posizione o sulle velocità quindi diciamo che le osservazioni che abbiamo fatto sono uno da un vincolo di posizione segue un vincolo di velocità ecco sarebbe bello se fosse vero il viceversa e invece purtroppo no ci sono dei vincoli per cui è vero e dei vincoli per cui non è vero quindi la domanda è da un vincolo di velocità segue un vincolo di posizione beh vediamo un esempio che farebbe pensare di sì allora prendiamo questo esempio qua prendiamo un punto o prendiamo che sia fisso prendiamo un punto p e richiediamo che la velocità di p sia perpendicolare a p meno così quindi questo blu è il vettore p meno e noi vogliamo che l'angolo tra la velocità e e non importa quanto forte quanto è l'intensità della velocità però noi vogliamo che v di p scalare p meno sia uguale a zero ok cosa possiamo dire su questo e beh guardate che p non è obbligato a stare a distanza fissata da o e non è detto da nessuna parte allora però effettivamente è così perché siccome v di p è di fatto la derivata rispetto al tempo di p meno o io dall'equazione che mi dà il vincolo che per adesso scrivo così poi cambieremo io posso scrivere quindi p meno o scalare d su di t di p meno o uguale a zero ecco se uno ci pensa un attimo questa quantità a primo membro non è altro che un mezzo per la derivata rispetto al tempo di p meno scalare p meno eh sì perché il prodotto scalare è commutativo e quindi quando io derivo il prodotto mi viene due volte la derivata di p meno scalare p meno quindi io ho questa quantità ma p meno scalare p meno non è altro che la norma di p meno al quadrato e di conseguenza io ho dedotto da quel vincolo che la derivata rispetto al tempo di p meno al quadrato è uguale a zero che quindi p meno al quadrato è uguale a una costante una costante r che potrebbe essere quella che si trova all'inizio del moto ecco e quindi vedete che il vincolo dato sulla velocità in questo caso ha implicato un vincolo sulla posizione ecco un vincolo di questo genere si chiama integrabile purtroppo esistono vincoli non integrabili ecco questa è una scoperta è una triste scoperta allora pensiamo a questo esempio prendiamo due punti sempre p e q che siano obbligati a stare a distanza a l quindi p meno q in norma deve essere uguale a l e questo è un vincolo di posizione sul quale non andiamo a questionare poi prendiamo il punto medio del segmento pq e lo chiamiamo m e imponiamo questo vincolo di velocità imponiamo che la velocità di m sia parallela a q meno p o p meno q che è lo stesso quindi se volete si può scrivere v di m vettore p meno q uguale a 0 ecco perché si può anche esprimere matematicamente cosa vuol dire allora uno si può chiedere sì ma forse questo implica che il il segmento pq si muova sempre lungo la sua diciamo così giaccitura sulla retta su cui si trova questo è sicuramente possibile ma non è l'unico caso ahimè perché se uno uno potrebbe avere potrebbe prendere una curva di questo tipo e avere l'asta che è tangente cioè l'asta sarebbe il segmento pq tangente quindi questo è p e questo è q questo è m e vedete che la velocità in questo caso se la curva è tangente al segmento è anche lei diretta come pq e quindi un moto di questo genere è perfettamente ammissibile va bene allora uno può dire sì magari riesco a trovare questa curva se uno ci pensa un po' la risposta è no perché qualunque curva può essere in questo senso percorsa perché non abbiamo delle limitazioni sul modulo della velocità di m e se uno ci pensa un po' questo è un oggetto questo che corrisponde a un oggetto ben noto questo oggetto qui non so se vi siete accorti corrisponde al pattino su ghiaccio quindi il pattino su ghiaccio che è una cosa terribile fatta così almeno non so quelli arcaici che ricordo io erano fatti così ok quindi qui poi qui sopra c'è la scarpa ecco questo qui vedete il pattino su ghiaccio e qui c'è il ghiaccio diciamo lui ha proprio questa proprietà cioè la velocità del punto di contatto deve essere diretta come la lama del del pattino e questo sarebbe il pattino se volete visto da sopra no qui praticamente ci sarebbe la scarpa ecco quindi diciamo che come voi sapete bene se avete pattinato quando uno pattina va dove vuole però non può fare tutti i moti che vuole per esempio questo moto qua terrificante che fa venire i brividi soltanto a pensarci c'è un moto trasversale rispetto alla lama è vietato non si può quindi cosa scopriamo scopriamo che questo sistema meccanico qui ha un vincolo di velocità che si chiama vincolo non integrabile che non si può tranne in casi particolari ricondurre a un vincolo di posizione ecco peraltro potrebbe consentire di arrivare dappertutto non vuol mica dire che uno non possa arrivare dappertutto per esempio un altro vincolo di questo tipo non integrabile è quello delle ruote dell'automobile e come uno sa bene a furia di avanti indietro uno se il posto c'è è in grado di parcheggiare però la macchina come al solito anche in quel caso non si può spostare di lato quindi morale della favola l'osservazione è che è meglio imporre vincoli di velocità dopodiché se saranno integrabili tanto meglio se non saranno integrabili pazienza avremo soltanto il vincolo di velocità che cosa possiamo notare ulteriore osservazione abbiamo detto un attimo fa il modulo della velocità non è così importante infatti perché se qualunque sia il vincolo pensiamo per esempio il fatto di essere tangente a una curva tanto per fissare le idee no? allora se questa è la velocità la velocità compatibile col vincolo beh allora ogni suo multiplo quantomeno positivo è compatibile col vincolo perché continua a restare tangente se pensiamo al caso del muro e beh uno quando si arrampica sul muro si può arrampicare con la velocità che vuole ammesso di essere in grado di arrivarci quando salta indietro uno può saltare indietro con la velocità che vuole quello che non è sempre vero è che il multiplo può essere anche negativo perché per esempio in questo caso a questa velocità nera lunga non è non è possibile invertirla questa è impossibile quindi in certi casi il multiplo il multiplo positivo va sempre bene il multiplo negativo in certi casi sì in certi casi no per esempio in questo caso qui della tangente andrebbe bene quindi in questo caso un lambda negativo si può ammettere ma in certi altri casi no allora quindi l'idea è che noi abbiamo adesso cominciamo a mettere un po' di simboli diversi intanto le velocità queste compatibili con i vincoli le indicheremo con la v doppio e non con la v giusto per capire che sono compatibili con i vincoli e l'idea è che se v è compatibile allora sicuramente lambda w se w è compatibile allora sicuramente è compatibile per ogni lambda maggiore di 0 oppure se volete maggiore o uguale dicendo che 0 è compatibile con tutto ecco allora uno si chiede se esistono degli oggetti matematici che hanno questa proprietà cioè che se w ci appartiene allora anche lambda w ci appartiene la risposta è sì questi insieme si chiamano coni ecco un cono quindi un c contenuto in e3 si chiama un cono di vertice o un certo punto di e3 tanto per fissare se dal fatto che p appartiene a p e3 appartiene a c implica che tutta la semiretta p meno al variare di p appartiene a c ecco il disegno è un po' questo quindi voi avete un oggetto del genere è un cono eccolo qui questo sarebbe o e voi avete un vettore avete un punto che ci sta dentro questo lì dita il cono e ci deve stare se ci sta il punto ci deve stare tutta la semiretta io a un certo punto mi fermo ma dovete pensare che il cono sia illimitato ecco ed è se tecnicamente potremmo chiamarlo anche un semicono e tenere il nome cono per quello tutto anche intero però noi chiameremo cono quello che altri chiamano il semicono ecco allora diciamo in realtà la cosa più interessante per noi è che un cono è anche un insieme di vettori perché più o meno è un vettore quindi qua in realtà stiamo descrivendo tanti vettori tutti applicati in o e questa quindi è una definizione alternativa si può pensare il cono visto che sono delle semirette e sulle semirette ovviamente ci sono dei vettori di conseguenza abbiamo una definizione di di cono che che ci aiuta nella nella della definizione che ci interessa ecco qui la definizione importante la definizione di vincolo o vincolo meccanico se volete su un punto P è semplicemente un'applicazione che potremmo chiamare vstort ma non importa il simbolo che per ogni t nell'intervallo e per ogni Q appartenente a E3 per sicurezza associa un cono C di Q di vertice Q ecco dopo di che se la velocità di P è via via appartenente ai vari coni diciamo così v di Q ecco perché v di TQ meglio dirlo perché v di TQ è il cono ecco diciamo così un cono v di TQ uguale anche a CQ ecco ai vari coni si dirà anzi chiamano W si dirà compatibile col vincolo così abbiamo anche dato la definizione di quella che era intuitiva allora come al solito queste definizioni un po' sono un po' pallose cerchiamo di capire che cosa vogliono dire e dove sono diciamo così i punti di i possibili punti di difficoltà diciamo è il discorso del muro di prima no? nel caso del muro di prima noi avevamo vari punti diciamo il punto P è quello che può stare qui che può stare qui che può stare qui che può stare qui e questi sono questo è il punto P e questi sono i vari Q quindi c'è un Q1 c'è un Q2 c'è un Q3 e c'è un Q4 i coni non sono altro che i coni cioè qui per esempio in Q3 il cono è costituito da tutti lo disegno così è costituito da tutti questi vettori e i loro multipli in Q2 avremo una cosa di questo tipo in Q4 ne avremo uno verde così perché le velocità saranno un po' più ristrette invece in Q1 saremo completamente liberi si intende che le velocità poi tutti i loro multipli positivi sono ammissibili ecco questo qua vedete è una sorta di campo di coni ecco in realtà a voler essere a voler essere un po' pignoli questo campo di coni dipende addirittura dal movimento perché allora pensiamo un attimo al sistema che vi facevo vedere prima ecco allora ecco avevamo il punto Q che doveva stare su una certa retta orizzontale e il punto P che doveva stare a distanza L ora è chiaro che se intanto le due velocità sono vincolate però questo cono non è solo una proprietà del punto dello spazio ma è legata anche al punto materiale che sta passando lì o meglio all'immagine del punto materiale perché prendiamo per esempio un punto qua così questo punto R allora questo punto R uno può dire va bene ci sono dei coni ma i coni di chi? perché se devo considerare il cono di Q il cono di Q avrà dei vettori soltanto orizzontali questo è il cono di Q ma invece quando io quando da qualche da R quando in R ci passa P allora il suo cono è diverso perché perché P non è vincolato ad avere la velocità orizzontale quindi se P per dire arriva qua per esempio se Q sta fermo una velocità possibile di P sarà questa verticale ma se poi P si muove se Q si muove avanti indietro la velocità di P può essere in definitiva qualsiasi quindi in realtà anche se c'è una sorta di vincolo P può essere qualunque cosa a patto che Q faccia quello che deve fare e quindi la restrizione di sulle velocità può essere molto può essere molto complessa quindi può dipendere anche dalla configurazione e dal movimento vabbè dopodiché uno non sta a menarla tanto perché in realtà quello che conta è che ci sia una sorta di arbitrarietà sulle velocità compatibili e quindi a quel punto in generale non si entra troppo nel dettaglio allora adesso vediamo qualche esempietto quindi ricordiamo che un vincolo è un campo di coni ecco allora per esempio se io ho una curva regolare questo è un esempio di vincolo come si dice bilatero nel senso che in ogni punto la velocità compatibile che si chiama anche velocità virtuale può essere sia di un verso che del verso opposto quindi qui il cono è tutto intero un altro vincolo bilatero è l'appartenenza a una superficie ecco se io prendo una superficie regolare allora c'è il piano tangente alla superficie in un punto è fatto da tutti vincoli quindi vincolo bilatero è quello per cui se w appartiene a c allora anche meno w appartiene a c e questo per ogni w appartenente a c ovviamente qui invece il vincolo unilatero è quello per cui non è questo non succede o poi ci sono tanti esempi diciamo se la curva non è regolare per esempio se c'è un punto angoloso allora chiaramente quando uno arriva qua le velocità virtuali diventano soltanto questa e questa e tutti i loro multipli per esempio ma queste sono cose abbastanza intuitive e sulle quali non andiamo non andiamo a insistere più di tanto così pure se ci sono punti angolosi in dimensione 3 cuspidi o qualunque cosa ripeto è un fatto più che altro geometrico e tra l'altro sono tutti vincoli di posizione quindi sono abbastanza facili i vincoli di velocità non integrabili sono invece molto difficili in generale quindi noi non li studieremo ma possono essere molto tosti quindi per finire diciamo così l'ultima definizione che in realtà non è altro che un nome quindi parleremo di diciamo così un campo di velocità compatibile con i vincoli si dirà una velocità virtuale c'è ancora un punto c'è ancora un punto importante e cioè i vincoli questi maledetti possono essere anche mobili pensate per esempio a quella specie di sistema col P e Q di prima che oscillava avanti e indietro ma che si muoveva anche a destra e a sinistra il fatto che P dovesse stare a distanza R o L da Q diceva che P doveva stare su una circonferenza di centro Q ma questa circonferenza è mobile perché dipende dal movimento di Q e quindi complicato oppure uno può avere un vincolo che è mobile di suo ma che non fa parte del sistema pensate per esempio a un'asta a un'asta che ruota ok ruota di suo e poi c'è un punto sopra che è vincolato a scorrere sull'asta ecco avanti e indietro e può scivolare soltanto allora questo punto qui avrà la sua velocità quella la v diciamo così la sua velocità che potremmo chiamare reale e sarà la somma di una velocità lungo l'asta di scorrimento e poi di una velocità perpendicolare questa U che sarà quella dovuta alla rotazione dell'asta ecco allora ci chiediamo qual è la velocità virtuale allora la risposta per definizione per definizione è quella in cui quando ci sono vincoli mobili in cui la W è congelata cioè in cui la posizione del vincolo è congelato cioè uno deve immaginare di vedere il sistema in una certa posizione a quel punto vede una retta W deve stare sulla retta e quindi la velocità virtuale è diversa dalla velocità reale ecco questa è l'altra osservazione importante se i vincoli sono mobili allora la velocità reale può essere diversa da quella virtuale ecco poi è anche vero il viceversa ossia che se V è sempre uguale a W allora il vincolo è fisso cioè non ci sono non ci sono possibilità di oppure no diciamo no lasciate stare scriviamo solo questo ho paura che non sia esatto il contrario forse è vero solo in certi casi e comunque non ci servirà quindi il vincolo è un oggetto fondamentale della modellizzazione meccanica tutto il discorso che abbiamo fatto prima sugli atomi adesso per adesso lo sospendiamo perché la domanda che uno si pone si va bene ma questo vincolo cosa fa cioè oltre ad ammettere certe velocità e certe altre no ecco questa è una risposta dinamica non è una risposta cinematica e quindi la posponiamo però possiamo già spoilerare un po' le cose no quello che farà un vincolo a seconda di come è fatto è avere quella che si chiama che conoscete già la cosiddetta reazione vincolare che è una cosa che bisogna aggiungere non è una cosa che c'è dal nulla ed è quello che diciamo così rappresenta il fatto di esserci dimenticati degli atomi e degli elettroni che tra di loro si respingono perché ci sono in fin dei conti delle forze ma voi direte no ma io voglio fare la teoria strata così no il problema è che noi osserviamo certe cose cioè quando uno si muove su un ottovolante e questo ottovolante sta facendo una curva e lui chiude gli occhi perché ha paura in quel momento se lui dimentica di essere sull'ottovolante sente una forza che lo schiaccia sul sedere dal seggiolino che è la reazione vincolare dell'ottovolante e che è un bene che ci sia perché se non ci fosse vorrebbe dire che l'ottovolante in quel momento si è rotto e lui sta volando per aria in attesa di precipitare al suolo quello che uno percepisce dalla reazione vincolare è esattamente una forza e questo fatto sperimentale dice guarda che tu devi assegnare questa forza ma su questo fatto torneremo perché è molto importante ma essendo un discorso di forze è evidentemente un discorso che attiene alla dinamica allora basta quindi abbiamo inserito abbiamo introdotto anche il vincolo quindi possiamo parlare di se volete sistema meccanico vincolato anche se in realtà ci sono ancora un pochino di ingredienti da aggiungere adesso però siamo pronti per affrontare un esempio un esempio importantissimo di sistema vincolato diciamo con dei vincoli non banali sono vincoli tra l'altro interni cioè quindi che si verificano tra punti del sistema e non diciamo come quello di essere appoggiato un pavimento che in un certo senso la tiene all'esterno del sistema e però è molto molto importante si tratta del corpo rigido e quindi nella prossima lezione e che sarà poi anche la prossima settimana incomincieremo ad affrontare il sistema meccanico dato dal corpo rigido e quindi grazie per l'attenzione e arrivederci grazie per l'attenzione